E' Alessandro Grandoni il nuovo allenatore del Chieti. La scelta è stata compiuta nella giornata di ieri anche se i giorni precedenti lasciavano presagire il buon epilogo della trattativa con l'ex difensore della Lazio. Grandoni ha avuto la meglio sull'ex tecnico nero verde Pino Di Meo. Nulla da fare neanche per Alessandro Lucarelli che probabilmente avrebbe meritato una ulteriore chance dopo l'ottimo lavoro della scorsa stagione quando ha guidato la squadra alla vittoria del campionato di eccellenza dopo il pessimo inizio di stagione del Chieti targato Umberto Marino. Invece la nuova proprietà rappresentata dal manager pennese Antonio Mergiotti e con Andrea Masciangelo direttore generale ha optato per la soluzione Grandoni ex difensore di Ternana, Lazio, Sampdoria e Livorno e che da allenatore ha iniziato con le giovanili della Fiorentina nel 2014 per poi guidare la primavera del Pisa nel 2016. Quindi un altro step per allenare in D lo Scandicci portato alla salvezza e il Savona, terzo posto e semifinale playoff. A metà settimana è prevista la conferenza stampa di presentazione dei nuovi quadri organici del Chieti e dello staff tecnico. Intanto si lavora per allestire l'organico e per gestire la grana Stadio Angelini, bisognoso di lavori sul manto erboso. Interventi che si protrarranno anche per l'inizio della stagione per cui il Chieti giocherà le prime gare in un altro impianto che la società sta cercando. Ora in Serie D l'unico interrogativo rimasto è quello legato al Francavilla Calcio. Il presidente Gilberto Candeloro in uscita sta trattando con due gruppi, uno locale composto da forze imprenditoriali francavillesi, un altro che ha come rappresentante l'ex vicepresidente del Chieti, Jonathan Basile. Sono queste le ore decisive. Una volta definita la nuova proprietà con la cessione delle quote sociali da parte di Candeloro, bisognerà procedere con l'iscrizione al campionato che va formalizzata entro le ore 18 di questo venerdì 12 luglio. Tra le abruzzesi già all'opera la più attiva continua ad essere la vastese di Marco Amelia, che è vicinissima all'accordo con l'ormai ex centrocampista del Francavilla Cosmo Palumbo e continua a coltivare il sogno Ferdinando Sforzini, l'ex attaccante del Pescara che lo scorso anno ha vinto la Serie D con l'Avellino e potrebbe essere l'uomo in più per la squadra del patron Franco Bolami.